La dinamica dell'incidente in cui domenica notte ha perso la vita Riccardo Benvenuti, di soli 16 anni, residente in paese, è ancora al vaglio della polizia stradale. Pare che il ragazzo, che era in sella a una bicicletta, fosse spinto o tirato da un amico a bordo di uno scooter. Era circa l'una e mezza, i due giovanissimi rientravano da una festa. Arrivati in centro a Sant'Angelo, Riccardo si è scontrato frontalmente con una Kia condotta da un compaesano di 32 anni ed è volato rovinosamente a terra. La madre, purtroppo, a corsa sul posto ha assistito agli ultimi momenti di vita del figlio e ha avuto un malore.